sono arrivato anche oggi qui a lago patria 32 chilometri in un'ora e un quarto circa bellissima giornata tutto molto bello oggi ho inaugurato gli specchietti retrovisori della sprintec che ho comperato da poco prima prima uscita e con l'auto sono questi che li faccio vedere diciamo sono un po piccoli in effetti però bisogna bisogna abituarsi sicuramente non danno la certezza di quello che c'è dietro ma aiutano nel senso della sicurezza diciamo che è un buon acquisto ciao